ricordo da che kurma cella raga beggi avete i cancelli oh raga siamo a metà via di Porta della Romana e il corteo ancora non è finito pensate quanto è lungo questo corteo guardate ragazzi allucinante cosa succederà cosa succede adesso cosa succede cosa succede no 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 non ci ce l'hanno cosa succederà non ci ce l'hanno Mimo che cazzo c'è ogni tanto si intrufano qualcuno qua libertà 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 aia raga mamma mia un macello un macello un mare di persone Che macello raga, noi ci siamo ragazzi, noi ci siamo, non mogliamo di un millimetro Lo risponde, Trieste chiama, Milano risponde Trieste chiama, Milano risponde Trieste chiama, Milano risponde Chiama, Milano risponde